ok allora mi avevano chiesto di fare un tutorial sulla sua pagro e vi farò vedere anche come averla perché non si trova in giro allora prima di tutto vi metterò il link in descrizione per andare in questo posto qui perché bisogna andare in questo che sembra come si vede più o meno sembra quasi un facebook cioè credo che sia russo adesso non lo so allora che io l'ho trovato quando c'era quella del G17 praticamente quando ti caricava il salvataggio o facevi iniziare una nuova partita in basso ti diceva anche il link dove andare allora che c'è adesso ce ne sono due gruppi aperti e due chiusi questo qui era quello che utilizziamo per il 17 e questo qui è quello per riceverle la nuova versione del 19 e il primo gruppo aperto era questo qui a dire la verità quello che ero andato io però questo qui sì che in pratica li fa vedere anche questo qua tutte e due che c'è anche quest'altro come si vede ci sono tutte e due questo qui c'è l'immagine del 17 e 19 questo qui era quello lì all'inizio che però ti fa vedere sempre anche la nuova versione tutto quanto si viene da qui dopo voi utilizzate quello per tradurre adesso me lo traduce perché bisogna andare se non ve lo traduce bisogna andare in questa zona qui e metterci russo perché lui praticamente tutto il resto te lo mette in italiano allora poi non lo traduce se vogliamo tradurre questo questa qui l'ho passato eccolo qui dopo facciamo traduci e praticamente ti traduce tutto quanto qui allora qui ti va bella spiegazione che è uscita la 6 ti fa alcune cose qui ti fa vedere praticamente cosa ti aspetta nella mappa che ci sono 36 campi che vanno dal più piccolo da 1,65 a 41,46 poi ci sono gli stoccaggi dei prodotti sfugi tutto quanto questa è la legge tutta quanta qua ti dice tutta la roba che c'è allora queste qui sono le produzioni quelle già finite che praticamente tu non devi farti alla costruzione praticamente tu basta che compri il posto e sei già posto c'è la grande base con garage stazione di servizio quella dello stoccaggio questo qui dovrebbe essere quello dove c'è forse il compost quella roba lì credo ci sono due produzioni di legname che fanno i board pallet sono quelli più lunghi due del pallet ci sta la cava che produce la sabbia e la ghiaia produzione di cemento che con la nuova versione con la 19 hanno aggiunto anche che si fa sia cemento e calce non fa soltanto il cemento se noi ci portiamo anche i pallet da un'altra zona ti praticamente ti mette la calce nei pallet poi c'è la bda con la produzione o elevatore di biogas per la pulizia del grano che praticamente ti fa prodotto grano e crusca raffinati cioè sarebbe grano raffinato e credo che sia poi c'è quello del cemento amate che praticamente ti fa l'hanno praticamente quasi tutta unita nel 17 erano due zone separate ora è più o meno tutta unita adesso non so se bisogna metterci soltanto te metti da una parte te li fa tutte e due adesso quella non l'ho ancora provata poi c'è quella dell'imballare per il cartone quella del compost questa qui carcasse e uova ah sì questa qui è quella lì nuova che hanno aggiunto che prima che faceva solo le uova dove praticamente ci sono i polli ti fanno le carcasse dei polli e in più ti fanno anche le uova poi c'è questo qui truciolare a pianta vabbè questo adesso mi sfugge poi abbiamo la produzione di mobili che servono altre cose poi c'è la coltivazione di bacche dalle serre questa è quella che produce le botti quella dell'olio e ti fa anche il cibo sarebbe il frantoio di produzione di olio vegetale che ti fa anche quella cosa lì che poi serve per il cibo dei pesci mi sembra poi c'è il frutteto quello che abbiamo praticamente preso l'altra volta questo è quello per fare i pesci questa qua nonno marker non so che cazzo sia produzione di chiaro di luno vabbè la produzione un po' a culo allora poi qui invece abbiamo quelli che tu devi costruire non solo che devi comprare il pezzo ma devi anche utilizzare il come ti fa vedere qui il board pallet il cemento il bloc di cemento che li possiamo fare noi li possiamo andare a comprare dal dallo store oppure con la game come si chiama lì con la global company le produzioni si possono acquistare anche domande mercantili però costano oggi per farvi vedere più o meno come sono le produzioni lo andiamo a comprare da lì tanto usiamo la moda lì dei soldi quindi così siamo a posto allora c'è quella di chimica agricola che fa il fertilizzante tutti i tipi di fertilizzante un altro ti fa anche il compost e i semi poi quella di mangimi quella che ti fa il cibo per tutti gli animali questo ti fa i sacchetti e la colla sarebbe la resina fabbrica di zucchero si fa la zucchero e la melassa il mulino farina e crusca nei latticini facciamo il burro questo qui non l'ha tradotto latte conservato e lo yogurt tessitura facciamo possiamo fare i tre tipi di il cuoio il lino la lana in base a quello che ci mettiamo con la lana se ci mettiamo quello degli animali il lino mi sembra che dobbiamo raccogliere il lino mi sembra che c'era ci sono adesso non mi ricordo mi sembra di sì e il cuoio invece sono con le pelli degli altri animali qui ci fai la carne e la pelli le pelli che in pratica sarebbe il cuoio lo fai in quando in questa quella relazione della carne poi c'è il birrificio e la fabbrica del pane che si produce il pane pagnotte e torta poi c'è la fabbrica di scatolamento che possiamo scatolare la carne la verdura il pesce e poi c'è quello per fare i succhi allora qui praticamente come ottenere la carta si legge qui per giocare sulla nostra carta ti devi essere un membro di kfs che praticamente cioè deve essere un membro e chi di qua questo qui poi appena vi metto in questo link c'è uno che può entrare uno clicca e può entrare poi allora swap agra fans club adesso non so se è questo o anche quell'altro però basta che uno viene qui e dopo clicca scrive allora sì che poi solo nel gruppo chiuso che quella però ve la daranno dopo loro il link per entrare praticamente dopo che voi avete comprato la mappa vi arriverà un'email che praticamente voi dopo cliccandoci sopra quel link lì e vi vanno di intanto vi danno in quel momento lì vi danno questa qui praticamente il link per entrare in questa che è quello lì che dove praticamente la prima volta ah c'è ancora aspetta non è che forse mi sono scordato ad andare a dire che l'ho scaricato sì mi sa di sì però di solito dopo un toto te la levavano loro mi sono scordato da dopo vi faccio vedere infatti come si fa per andare anche per fare la richiesta e per l'aggiornamento questo qui è solo eh la prima volta ve lo mettono già loro voi la scaricate dopo un po' ve l'avevano mi sono scordato di andare aspetta eh era questo adesso devo ritradurre un'altra volta un raccordoro di scatole che potrebbe mettermelo già automaticamente che cavolo ok allora torniamo di sotto i membri di questo gruppo useranno futuri aggiornamenti gratuiti per quelle lì della swap agro e più anche se ci sono degli altri mod che però per ora li hanno messi tutte quante dentro direttamente dentro la swap agro non hanno fatto altre cose poi poi qui ti dice allora se tu non avevi la 17 praticamente se uno nuovo la mappa costa mille rubri invece se uno già aveva come me anche quella del 17 praticamente sono 500 praticamente la metà costa dopo il trasferimento di denaro praticamente tu fai ci dovrebbe essere i link dopo andiamo a vedere sono qua sotto i link praticamente dopo che vi è arrivato avete fatto il trasferimento che di solito per per noi europei e anche per altri praticamente c'è solo questo qui perché questo qui è tutta roba dovrebbe essere tutta roba russa quindi l'unico che possiamo utilizzare è questo qui quello di paypal praticamente clicchi qui uno deve avere il conto paypal vabbè ma per fare il conto paypal si fa subito ma se andate a vedere su google scrivete paypal vi fa entrare potete unire o il vostro conto della banca o la carta di credito se avete una carta di credito anche quello lì dei post e pay se uno ce l'ha di verità ci sono anche adesso hanno fatto anche delle banche online praticamente che tu puoi crearti il tuo conto senza aspetta che è questo buon anno anche a te ho ah per assetto corso bisogna andare a vedere se non c'è qui su steam io assetto corso e ce l'ho aspetta tranne che adesso non ce l'ho installato perché sto ristallando un po' di giochi perché nel nuovo computer se per caso c'è di solito in alcuni c'è anche quello lì di steam direttamente perché la perché non sono ancora non è che si potevano mettere le mod però io ho assetto corso normale non so se tu hai quello nuovo che è uscito perché di solito in alcuni come andiamo a vedere in neurotrack c'è la fortuna che alcune mod si possono scaricare direttamente a forza forse bisogna andare nella pagina del negozio eccolo qua workshop di steam in alcuni c'è questa funzione che si può andare qui nel workshop però se qui non c'è scritto vuol dire che ci sarà bisognerebbe da adesso dopo al massimo quando finisco qui vado scrivendo su google a vedere se trovo qualche cosa perché non si può neanche che si potevano mettere delle mod in assetto corso e allora praticamente ci sono anche degli account che puoi fare tipo l'ho fatto anch'io che ti puoi fare anche delle carte virtuali e tu praticamente puoi mettere quello lì così dopo praticamente tu soltanto se ci devi comprare qualcosa ci metti dei soldi e quando devi comprare qualcosa allora praticamente bisogna utilizzare questo poi dopo che ti è arrivato il pagamento perché con paypal ti arriva un email che ti dice tutta la transazione che l'hai fatto a chi l'hai fatto tu praticamente bisogna mandare un email a questo indirizzo qui con scritto il nome poi il numero di telefono il nickname io di nome ho messo sempre lo stesso io ho messo nome cognome che ho messo quello lì ne ho messo solo uno perché tanto alla fin di conto utilizzavo sempre quello quindi non è che... allora era qua sotto poi il numero di telefono perché questo qui all'inizio ti fanno fare anche la registrazione con il numero di telefono di qua e di là il nick in VK che sarebbe questo qua se utilizzi un nick diverso cioè qui devi mettere il tuo vero nome anche poi se per caso in VK utilizzi un nome diverso lo metti lì e la conferma di trasferimento date richiesti praticamente voi fate inoltre l'email che vi ha mandato paypal lo inoltrate nell'email così dopo praticamente gli arriva anche quella lì a loro e dopo ti arriverà un email quella lì che in pratica vi danno il link per nella vostra carta come si vede in me la chiamata così con la vostra carta andate lì nel link dopo che siete entrati c'è da scaricare la mappa come avete visto prima che io mi sono scordato di andare a dire che avevo aggiornato poi non dovete passare ad altri perché se per caso vi scoprono se la data altri vi tenete quella che avete quella lì si potrebbe fare dopo che sono sicuro che sono finiti tutti gli aggiornamenti uno se vuole la può passare ad un'altra tanto aggiornamenti non ne fanno più tipo quella del 17 la potrei anche passare a qualcuno perché tanto ormai lì sempre se non ti rompono le scatole anche perché tu hai passato a quell'altra bisogna fare la prova se funziona anche quello con paypal perché tanto se uno va a scrivere su google paypal e poi a massimo ci scrivi pay safe card e vedi se si può fare il corrigamento perché l'importante è che tu devi mettere un conto che dopo loro tipo nel conto bancario praticamente se tu ci metti quello lì dopo praticamente vi fanno due accrediti sul vostro conto di pagamento due cifre piccolissime che dopo che hai fatto quella lì voi dovete andare sul sito di paypal praticamente inserire quelle due cifre due numeri delle due cifre per confermare che è veramente il vostro dopo che è arrivato fanno la conferma e ve lo fanno quindi adesso lì bisogna vedere come sono ognuno però di solito se si va su google ti dice tutto se si può fare o no perché mi avevano chiesto anche per la post pay se sono andata a vedere infatti si poteva fare c'era un modo anche lì che spiegava in pratica com'è che si faceva per fare quella cosa ok e questo più o meno è tutto per averla adesso vi faccio vedere che dopo vi danno il link per andare in questo gruppo qui allora questo qui era quello per il 17 questo qui quello per il 19 cliccandoci sopra ti fa vedere tutte le informazioni poi qui adesso il volume lo traduce automaticamente allora qui se volete tipo adesso se uno la prende adesso c'è la 2.6 se per caso dopo più avanti faranno la 2.7 per ricevere l'aggiornamento bisogna venire qui vi consiglio di cavare la traduzione quando siete qui perché adesso vi faccio vedere scrivendo il nome ecco praticamente ve lo scrive così non so perché mette quella righina davanti quindi cavare la traduzione poi dopo scrivere il nome adesso ve lo faccio vedere perché adesso devo andare a scrivere ho scaricato che mi sono scordato vabbè traduci adesso non è attivo perfetto voi venite qui e riscrivete di nuovo perché mi deve mettere quella cazzo di riga aspetta facciamo traduci ogni tanto si bagono stiii cose qui eh allora traduci poi mostro originale ecco vedi ora funziona voi scrivete il nome che della vostra scheda quando siete venuti qui manda di solito dicevano che entro 48 ore te lo levavano eh io mi sa che l'ho scaricata molto qui di 48 ore fa eh vabbè mi ero scordato adesso che fortuna che ci sono andata a vedere adesso gliel'ho scritto e praticamente dopo che avete dall'altra parte dovete fare sempre scrivere il vostro nome e cognome per fare la richiesta dell'aggiornamento però questa roba qui si fa solo quando dovete fare l'aggiornamento eh della prima volta al massimo la prima volta dopo che avete scaricato potete andarci a scrivere che avete scaricato poi vi consiglio di copiarla eh da qualche parte si potrebbe anche salvare online tipo su tanto chi c'ha un account chi c'ha un account come si chiama e qui google di sicuro avete google drive potete praticamente andare nella carta dove ce l'avete il mio account lo ce l'ho qua eccola qui prendere spostate lasciate e lui praticamente ve la carica ve la salva direttamente lì poi dopo quando volete riscaricarla l'andate a riscaricare quando quando vi pare allora io ero già entrato nel gioco adesso vediamo dovrebbe fare devo andare a disattivare un attimo questo prima ok adesso tra un po' dovrei vederlo anch'io che arriva un po' in ritardo ah cavolo però mi si è spinto speriamo che funziona di nuovo non ho mosso il mouse e mi si è disattivato non è che adesso mi tocca riuscire a rientrare ecco spingiamo ok vediamo se funziona anche questo si funziona anche questo qui perfetto adesso questo qui non so se l'avete visto qui ne ho presa una da capo ah poi un suggerimento che vi dico questo dovrebbe succedere più o meno a tutte le mappe eh prima tipo avete scaricato una nuova mod vi consiglio prima di andare a salvare perchè lui ti fa il backup se vi andate a vedere c'è un posto dove ti salva tutti i backup però ti salva il penultimo non l'ultimo salvataggio perchè lui praticamente in pratica lui vi salva quella che ci avete qui è salvata e nel backup va a sostituire quella lì che avete salvata in precedenza quindi l'ultima proprio quella che avete in questo momento tipo se adesso faccio salva adesso si mette che faccio un attimo vado un attimo qui perchè voglio cavare l'autosalvataggio ecco se voi andate salvate la prima volta vi crea quello nuovo quando lo salvate un'altra volta vi crea il backup e ci avete il salvataggio perchè può succedere che alcune volte se voi stavate giocando un salvataggio perchè io la swap agro quella che stavo facendo adesso la serie ho dovuto rifare un nuovo salvataggio perchè mi si era avevo messo degli altri modi come avevo detto che volevo rimettere quella per guardare indietro avanti, sinistra, destra di qua e di là non so perchè quando si mettono alcune mod tu dopo rientri dentro che più che altro ti si rovina il salvataggio ma te puoi giocare l'unica cosa è che ci sono dei momenti che può capitare che alcune volte se voi stavate giocando un salvataggio prima vi andava benissimo e dopo un toto se avete anche quelli che controllano FPS praticamente quando giocate in quel salvataggio d'ora in poi vi arriva sempre che ogni tanto c'ha dei cali pazzeschi te vai avanti se hai 60 poi vai 30 60 c'è di continuo e mi era successo quella cosa lì che avevo messo e adesso in pratica io l'ho rimesso l'ho rifatto il salvataggio rifacevo gli stessi percorsi di prima e non avevo nessun problema di come dire di FPS andava sempre al massimo e quindi vi conviene fare prima un salvataggio cioè copiare il vostro salvataggio da un'altra parte al massimo lo spostate nel desktop da un'altra parte e poi dopo in pratica andate dentro se va tutto bene va bene se invece va male a meno così potete riprendere il salvataggio quell'altro che funzionava per bene e non avere più quei cali di FPS allora dato che abbiamo la mod qui dei soldi se mi ricordo come cavolo si usa si mi sono ricordato come si usa ok che adesso andiamo a vedere un pochettino che è l'unico modo per vedere un po' le produzioni veloci è questo allora intanto potremmo anche andare a comprare un po' quelle lì che adesso non so se questa qui è una di quella si in pratica qua adesso dobbiamo prima comprarlo allora con questo noi veniamo qui lo compriamo e adesso questa qui bisogna prima crearla mettendoci more pallet allora questi qui in pratica sono tre modi adesso che si può per averle ok come detto o li compriamo qui dallo store che sono praticamente questo questo sono i primi tre cioè dopo il biogas sono i primi tre tu li puoi comprare però li devi portare cioè il costo è minore ma li devi portare oppure si possono produrre in che adesso ci compriamo anche questa qui in questa qui che adesso se vi ricordavate l'altra volta l'entrata c'è ancora due entrate però prima si compravano in maniera separata vabbè che come si comprava nel 17 era diverso perché lì compravi proprio l'azienda invece qui devi comprarti proprio l'appezzamento quindi anche per motivi che è diverso qua come si vede ci va il biogas che l'hanno fatto un po' diverso adesso è tutto unito prima in pratica qui avevamo quella che faceva il cemento cioè il calcestruzzo che era praticamente questa zona qui invece in questa zona qui avevamo questa qui per fare i mattoni ora sembra che abbiano fatto quasi uno tutto unico adesso dobbiamo andare a trovare dove è il punto per... eccolo qui ci sono sempre due tipi allora adesso noi veniamo qui ci mettiamo il massimo intanto i soldi se li abbiamo non ci interessa allora c'è questo allora qui ci dobbiamo mettere questa qui che adesso va a pesca qual è perché questa qui è una di quelle che ha fatto lui quindi è una nuova questa qui è quella per produrre i mattoni che concrete dove... ah no questi qui sono i mattoni blocco i mattoni ah questo è il cemento questi sono i blocchi di cemento quindi qua ci voleva la sabbia ah questa qui sand e la sabbia ah questo qui è il biogas è scritto di sopra acqua poi ci vuole sand e la sabbia il cemento ci vuole che quello lo produciamo dall'altra parte poi la roccia cioè questa la gravel praticamente da su di parte invece in quest'altra ci voleva sempre il biogas però è lo stesso perché quelli che sono uguali come si vede te li mette che sono già inseriti ecco l'unica differenza è che qui ci vogliono i pallet per fare quell'altra produzione quindi in pratica alcune sono anche insieme come si vede già partito altre invece tipo qui abbiamo i pallet grave il cemento e sand più o meno dovrebbero essere quasi tutti l'unica cosa che da una parte c'era il pallet che infatti era la stessa cosa che c'era quella del 17 che è successo qua? ah sono finito di sotto mi era preso un colpo si perché ogni tanto la rotella funzionano anche queste qui anche mentre perché io stavo utilizzando la rotella per andare giù allora mi ha funzionato lo stesso e in pratica quelli li possiamo fare o in quella maniera lì oppure comprarli o se no semplicemente come abbiamo fatto prima veniamo qui li mettiamo tutti ok andiamo giù così perché se no facciamo come prima ok bisogna attivarla questa notate che non è già attiva spingiamola per attivarla perché mi era successo quando è andato a fare le prove per farle partire che avevo fatto partire il tempo ma non era partita eccolo qua forse avrei fatto meglio a non metterla a stagioni vabbè ormai l'ho messa adesso questo qui intanto lui produce intanto ci andiamo a vedere un po' quegli altri almeno così più o meno vediamo come sono questi qui da costruire perché quell'altra da fin dei conti si vedono come sono il problema sono questi qui che uno più o meno per sapere dov'è che si trovano in che zona che tipo di produzione c'è che adesso forse non so se già è attivo ecco vedi appena compriamo la pianta allora questa qui è quella lì per fare i mattoni credo quella che abbiamo preso ah no questa qui è una di queste qui che allora cosa si fa ah questa qui è quella lì per la produzione del cibi cibo per maiali, cibo per le vacche e cibo per i pesci dovrebbe essere questo qui ok qua di solito ti fa vedere qual è ah e questo qua non te la fa vedere qui nella svapagro strano, perché di solito con questo qui ti metteva qua e ti faceva vedere il punto dove l'avevi vediamo se ci fa vedere almeno quell'altra scegli visuale forse perché ancora non c'è eh più o meno questa qui è quella che sta dove ci sono le pecore cioè dove c'erano le pecore una volta che questo qui era lo stanzino delle pecore adesso ve la faccio vedere dov'è no che cazzo è successo è praticamente eh dovrebbe essere infatti questa qui invece quest'altra era quella più in là che quella altra invece che cos'è che era allora questa qui agricoltura questa qui questa è quella che fa i tronchi ok adesso intanto mettiamo i materiali anche in questa andiamo indietro allora qua come si vuole ci vuole sempre la stessa roba cioè non è che cambia eh sono sempre gli stessi eh allora queste due sono queste qua mando veloce il tempo più o meno quando li ho già messe tutte questa è un'altra quindi adesso questa qui dovrebbe essere quella che fa tipo il mulino credo perché c'è il simbolino di quello già che si vede allora facciamo così ah ho finito i soldi mi sa ah 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 allora andiamo a prendere un prestito dalla banca infinita allora allora così mettiamoci anche questo così abbiamo finito anche questo qua allora le produzioni sono tutte queste con questo triangolino qui eh allora questa qui dovrebbe essere quella che fa e le sacchette e aspetta qua ce n'è un'altra allora perché lì c'è tanta roba che alla fin dei conti non so neanche se per caso ce n'è un'altra o no ah questi qui dovrebbero essere tutti gli acquisti che ci sono qua che si possono fare le vendite qua vabbè torniamo da questo eeeh non mi ricordo se l'ho comprato no lo stabilimento è questo qui compriamo anche lui poi ole ole ah è vero non le ho attivate quell'altro è un altro di scatole però questa qui è vabbè aspetta facciamo così per vederle tutte quante è probabile che possiamo andare a vedere anche qui eh eh ah auto auto perfetto questa qui è già partita anzi queste qui però non so se si possono vedere da qui quella costruzione che sta facendo ah attiva attiva perfetto vediamo questa qui ecco questa qui ah no beh però questa qui era a posto vediamo se è quest'altra o quell'altra vabbè aspetta va facciamo prima fare così per vedere se sono attiva o no intanto la mappa la puoi anche cavare ecco inizia poi ci andiamo a vedere questa qui che dovrebbe essere quell'altra che l'avevo fatta solo nel primo alla fine eh olè inizia per sicurezza vado a vedere anche questa ma questa dovrebbe essere quella che avevo fatto all'inizio che era a posto ok bisogna sempre ricordarsi di cliccare inizia in questo qui per la produzione di questo qui quest'altra e un'altra e un'altra di quelle lì compriamoci anche questa e devi tornare sempre indietro e andare avanti allora intanto facciamo ah no è disabilizzato ok andiamo anche questa e inizia per questo ti dice quanto ne fa all'ora 26.666 litri all'ora che i litri sarebbero quelli che vediamo lì dove c'è il 0% di qua e di là poi qua è quella lì della lana per la produzione delle pelli che qui ci metti la lana e tutto quanto quell'altra roba lì dovrebbe essere credo questo qui eh ah no no la filanda è qua sopra quindi questo qui è un altro allora questa qui direi che possiamo comprare anche questa qui tanto so già che è da costruire così ci portiamo già avanti allora compriamo quest'altra quest'altra ancora ok iniziamo adesso ci spostiamo qui che qui c'è il punto questo che è il punto vendita normale della lana e e come si chiama lì del cotone quello nuovo eh che poi lì come detto il cotone va in base alla stagione che poi uno mette se utilizza la stagione eh se uno usa la stagione puoi fare quello che ti pare se utilizza la stagione ci sono principalmente quelle italiane che si può fare il cotone ne hanno forse aggiunto anche qualcun'altra che si può fare il cotone è solo la canna da zucchero che praticamente è difficile eh da trovare eh abbiamo finito di nuovi soldi come si vede si fa presto a finire i soldi eh se li vai a comprare così perché costano un casino questi questi materiali qui prendendoli da qua eh perché sono duecentoquarantamila non è che sono pochi eh non è che uno non è che le deve fare le costruzioni come sto facendo io tutti quanti da botta solo eh allora questa qui non avevamo finito che però il problema ce li devi mettere per forza tutti qua eh per far finire la cosa eh ok allora questa qui ah questa qui è quell'altra della che ci va la barbabetola da zucchero e questa è un'altra che bisogna fare questa maniera ok quelli che ce ne vogliono di più come si vede sono proprio eh questo qui il cemento cioè il calcestruzzo quegli altri però quello lì dovrebbe essere anche quello che ne produce di più eh quindi allora avviamo dovrebbe essere quasi finito questo qua allora questo qui l'abbiamo visto questo qui è quello del per fare carburante questo qui è il quello del biogame per fare il petrolio questo qui è la questo adesso li vediamo dopo eh soltanto stavo attivando tutti quanti quelli lì che in pratica allora questo come si vede c'è già allora io lo fermo qua c'è che avevo fatto questo questa è quella del pesce questa qui è un'altra come si vede ah ce ne sono parecchie che ti devi fare te eh però facendo almeno in questa maniera qui possiamo vedere più o meno quali sono quelli che si trovano eh non me l'ha comprata mi sa eh perché avevo premuto forse un altro tasto allora ok ma anche questo attiviamo allora questa qui dovrebbe essere la segheria 2 quella più grande adesso l'hanno un po' modificata cioè è sempre uguale questo qui dovrebbe essere un altro che invece è da fare fare perché mi sembrava che lì vicino ce n'era uno che era questo qua proprio di fianco esatto questo me lo ricordavo da quella vecchia eh però vedi come si vede non tutti hanno lo stesso perché questo qui ha bisogno di 240 invece c'erano alcuni che era di 360 quindi in pratica hanno fatto questa cosa che alcuni forse in base alla grandezza che che hanno in base alla loro grandezza c'è maggior consumo invece nel 17 erano praticamente sempre tutto uguale quindi ci dovevi mettere sempre quelli stessi lì e non cambiavano questa abbiamo finito questa qui dovrebbe esserci già esatto che è quella che forse abbiamo visto prima questa qui pure c'è praticamente questo qui facciamo ci vuole la lavanda sarà un profumo alla lavanda che facciamo questo qui è quello che abbiamo preso il frutteto questo qui dovrebbe essere quello dell'olio il frantoio questo qui quest'altro è quello per fare i mobili questa vabbè è quella dove mettere gli oggetti posizionabili ecco questa qui è un'altra quindi andiamo a comprare anche questa prendiamo vediamo anche questo ho preso tutto ok ah si non ho fatto party inizia allora abbiamo quasi finito questo qui è quello per fare il cemento qui c'è già e questo qui dovrebbe essere quello per fare la crusca che c'è già esatto adesso andiamo avanti il tempo intanto a massimo possiamo aspetta averci anche di qua questa è quella delle polli questa è quella delle serre questa è quella del cartone questa è quella dei pallet questo è quello dei barili pallet e bore pallet iniziale questo è quello della casa all'inizio che niente si questo qui sarebbe non so se è sfasciato di nuovo no stavolta dovrebbero essere già a posto perché una volta avevano fatto in un aggiornamento che praticamente anche questo qui bisognava aggiustare allora mettiamo intanto a 120 la velocità intanto possiamo andare a vedere un po' gli altri tipo vabbè qui c'è il biogas ok trasferiamoci pure al biogas allora questo qui è quello normale che tu ci metti la roba e ti danno i soldi e fai praticamente il liquame c'è il digestato invece questo qui è quell'altro che vieni qui ci metti il silato credo che ci puoi mettere anche altra roba adesso bisogna vedere allora vieni qua e lui praticamente te produce sia il biogas che il digestato allora il biogas lo carichi da qui e il quell'altro lo carichi da qui adesso una volta c'erano anche i tubi dinamici nel 17 qui adesso non so se ci sono i tubi ora e come si vede questo qui parte ora poi dopo possiamo andare a vedere intanto questo qui il petrolio intanto lo iniziamo a fare così possiamo andare e questo qui non è che costa tanto cioè alla fin dei conti 500 non è che costa tantissimo olè qui praticamente ah bisogna metterli in uno per ognuno stavolta no io credo che basta uno e me li faccia tutti quanti credo eh si basta che ne metti uno e poi basta che li attivi qui come al solito ti fa vedere sempre la panoramica di che cos'è che l'1 è questo qui che praticamente ci devi mettere il biogas qui invece il 2 praticamente c'è il prodotto finito che è il petrolio eccolo qui eccolo qui poi andiamo un attimo a vedere come sono messi qui questi e manca ancora parecchio eh allora facciamo vedere i barili allora dobbiamo avere prima intanto facciamo una cosa che ne compriamo un po' si vabbè li potevo ho comprato per adesso ho comprato il 2 vabbè quindi così adesso ci prendiamo questo qui tanto al fine ci hanno la stessa funzione vabbè che l'avevo già fatto vedere quello lì dei pallet eh veniamo qui qui abbiamo bisogno di biogas che una volta ci mettevi il cipato ora invece dato che avevano fatto il biogas hanno messo il biogas invece qui ci vogliono i log non so perché hanno scritto cipato ma praticamente sono gli alberi e la produzione praticamente facciamo qui i barili che adesso non vengono più fuori e neanche più qui vanno già direttamente lì dentro e il cipato che viene qua poi andiamo un attimo qui facciamo la stessa cosa qui ci vanno la stessa roba in quello del legno si vede che questi sono già attive da sole l'altra era questa qui che avevamo preso questa facciamo i buer pallet che adesso hanno fatto anche come vi ho fatto vedere nell'ultimo video hanno fatto anche il loro rimorchio autocaricante che porta praticamente tutto ok poi allora andiamo un po' in questa zona qui adesso ci compriamo un po' la zona che sta qui mentre che aspettiamo che gli altri si producono così vediamo allora torna normale allora qui allora qui andiamo a mettere i pallet qui vabbè si mette il biogas e basta perché per fare il cemento serve solo il biogas perché fa tutta questa macchina qui invece qui dovrebbero essere dove spawnano i i cosi i cosi la calce allora andiamo qui allora se noi adesso andiamo a biogas come si vede è già partita la produzione del cemento questa qui è già partita poi venendo a mettere questo qui facciamo partire anche quella della calce eccolo qua poi invece in questa zona qui noi qui ci dobbiamo portare scaricandolo qui e poi dopo quelle altre due sono queste qui e c'è anche il disegnino questa dovrebbe essere la crusca e questa invece il grano raffinato allora cliccando qui possiamo metterci frumento, orzo, avena e questa non so se potrebbe essere la segale cioè i rie tranne adesso qui viene scritto tutto in russo quindi una di quelle lì ok come si vede ce ne sta parecchie ci ha preso un bel po' di soldi e come si vede partono qui le altre due produzioni allora di questo qui che dovrebbe essere il grano raffinato credo eh adesso vediamo eh 900 si non vediamo niente praticamente si questo qui dovrebbe essere questo ne fa di più e quello ne fa di meno ok poi abbiamo questo ah l'abbiamo già comprato è quello che sta producendo quindi è già a posto dobbiamo comprare questo qui vediamo se riusciamo a comprarli tutti e poi prendiamo anche questo no ma ha detto che non ho soldi quindi andiamo a rimettere i soldi ok allora non c'è ne ha preso neanche uno quello è bello ok dove ci siamo prendiamo anche questo qui sì siamo a posto allora andiamo dal primo che è questo qui per fare i mobili non è che c'ha un orario d'apertura ah sì dalle 6 alle 8 allora aspetta che andiamo avanti con questo com'è che era no non è F4 ecco così allora dai 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 olè siamo arrivati a 480 certo che sì se posiziono il letto facciamo prima ad andare andiamo a vedere se tutte quante ci hanno un orario questo qui dove è il cartello qui sì anche questo qui dalle 6 alle 8 non so se è soltanto lo scarico o anche la produzione che poi dopo non va avanti massimo potremmo vedere qui che questo qui è già partita per vedere se lui sta allora allora qua il cartello due gatti eccolo qui ecco ho beccato lunghe che non c'è l'orario il cartello dentro ecco pure la piove ci voleva mentre queste qui non ci vuole l'uno che ci voleva qualcosa erano quelli vabbè ormai siamo quasi arrivati quindi siamo a posto faccio venire un po' di più di giorno perché vabbè lo mando con questo qui da 120 ok possiamo venire qui che altro perché mi deve aprire come se vedi il cancello si apre automaticamente allora qui c'è un po' di roba da portare biogas pallet poi e package adesso questo mi sfoce non so se sono ah questi qui sono i wood chipboard sono praticamente quelle di legno un po' più grandi vabbè qua ci vuole dopo li andiamo a vedere dall'altra parte quali sono gli altri due intanto c'è la foto allora biogas poi pallet uno sono i cartoni e l'altro i bore pallet perfetto uno basta che va a vedere lì ci sono tutti i disegnini così dopo uno capisce per bene adesso andiamo a vedere un attimo qui come siamo messi con questi ecco non ancora finito è perché finisce quando ti mettono ti mettono praticamente questo qui è chiuso bisogna stare attenti che dopo che chiudono non riuscivano più a uscire se l'avevano già fatto eh ok quello non è ancora finito vabbè allora intanto andiamo in giro a questi altri tre che avevamo comprato allora questo qui ce l'abbiamo di qua ecco il frantoio praticamente mettendoci biogas acqua pallet cartone e semi di girasoli e colza quello li scarichiamo qui in ognuno c'è scritto il suo col c'è il simbolino qui c'è l'acqua qui è probabile dove c'è un scarico ah si praticamente l'olio in cartone ti fa vedere il simbolino lì questo qui è quello per fare il cibo lì dei pesci e da quest'altra zona dovremmo avere il biogas che è qua e poi c'era il cartone allora qui mettiamo cartone e pallet come si vede c'è tutto il simbolino quindi uno sa dove che deve andare hanno già finito i soldi come si vede è molto costoso eh per quello che ho fatto per farvelo vedere ho fatto un video dove ci potevamo mettere i cosi perché sennò era impossibile farlo vedere tutti qui poi di roba ce ne va un casino poi come detto costa molto perché poi dovrebbe andare anche in base credo alla stagione come si vede già li sta facendo allora questo qui dovrebbe essere invece quello che facciamo la salvi lì ci vuole la lavanda che vi fa vedere qui ci vogliono tutti l'unico frutto è la lavanda poi ci vogliono sempre come al solito palle, cartone, acqua e biogas quelli lì ne servono un casino eh allora qui si scarica vabbè come si vede allora qua è probabile che si scarica la lavanda anche se c'è uno scarico strano eh poi qui si scarica i pallet e qui i cartoni di solito vanno sempre insieme palle e cartone perché prima lo portano dove praticamente c'è il pallet e poi dopo te lo portano ah no aspetta potrebbe essere qui lo scarico della lavanda eh che c'è anche lì il cocco qui potrebbe essere lo scarico forse dove ci mette lui la roba eh massimo dopo lo vediamo intanto facciamo partire la produzione ok bisogna vedere dove è l'altro display ok allora qui come si vede ci ha riempito tutto quanto cartoni, pallet volevo vedere dove era allora qui c'è l'acqua questo qui come si vede è grande quindi ecco lui lì ah è questo qua la zona è qui eccola qua la zona ok intanto il tempo sta passando quindi vediamo un po' ecco manca ancora qualche cosina allora qui cos'è che era rimasto questo l'abbiamo visti tutti questo l'abbiamo già visto nel video quando ho fatto la serie questo qui dovrebbe essere uno di quelle che è in produzione esatto da questo qui mi pensavo che spingo la tastiera il mouse mi lascia fuori questo qui ammazza ma è indietro eh più che altro non si vede niente allora abbiamo vabbè la segheria l'abbiamo già vista vabbè se volete vedere un pochettino questa qua che è un po' fa un po' diversi dov'è il punto per far partire ah si se non la compro non parte devo vedere dov'era il punto non capisco dov'è il punto per far partire vabbè che c'è possiamo fare anche questo modo qui eh adesso bisogna andare a vedere qual è vabbè che qui ci sono tutte le foto eh è questa qui possiamo anche andare qui per farlo partire eh qual è il menu quello veloce ma dai ma che cavolo vediamo se da qui ce li metti i soldi ah beh allora possiamo farlo anche da qui oh vediamo che bisognava per essere per forza fuori eh ok così facciamo partire anche questa non riuscivo a trovare il punto quello dove ti fa vedere le informazioni di questo vabbè queste sono ancora da fare qui abbiamo la cava che è un po' lontano anzi per mettere l'acqua è lontanissimo eh allora qui mettiamo il biogas intanto ce l'andiamo a comprare questo è parecchio perché poi per l'acqua bisogna andare aspetta che andiamo più veloce qua sotto e anche per raccogliere poi bisogna andare qua sotto eh aspetta che adesso rimandiamo veloce il tempo tanto adesso stavolta basta uno e già va direttamente questo qui allora l'acqua in pratica la scarichiamo qui invece allora qui come si vede poi dopo c'è la separazione si sposta va qui poi dopo qui come si vede c'è l'altra separazione che qui ci sono soltanto concrete che è di qua invece qui ci va la sabbia dopo noi passiamo qua sotto e scarichiamo allora adesso mi sa che bisogna ritornare qua su per far partire si hanno messo il punto lontano eh che altro per far funzionare il pulsante lì del ecco il biogas è la prima cosa più importante che serve vabbè che adesso non ho fatto che si può che comprare quindi allora vediamo un po' quant'è che ne abbiamo fatta qui di roba come si vede se ne produce parecchio eh allora compriamoci anche questo così mentre facciamo che passa il giorno ecco adesso quando arriva si e ora mi ha fatto avanzamento rapido perché è il fatto del problema avendo la stagione adesso ci vorrà un po' di tempo l'ho fatto andare un po' troppo si sapevo non ce la mettevo la stagione perché c'è questo problema qui che abbiamo qui olè a posto questo qui questo apre sempre quindi dobbiamo aprire il cancello allora qui era in questa zona qui andiamo a mettere il petrolio e poi in questa zona qui ci sono allora questo qui fa l'olio qui fa il diesel e qui ci sono i polimeri allora mettiamo il petrolio come si vede sono due diversi ma hanno tutti bisogno del petrolio quindi non è che questo qui ti fa il diesel e l'hanno messa separata ma alla fine è sempre la stessa qui ti fa il diesel e l'olio qui invece ti fa i polimeri qua come si vede c'è la torcia allora adesso andiamo a vedere dovrebbero aver finito questi qui dopo almeno possiamo passare un po' il tempo eccoli qua come si vede hanno finito di mettere il coso qui si anche come al solito ti mette il 99% perchè lui deve fare così allora ha messo anche il cartello qui come si vede ci vuole il o il il digestato o il liquame dovrebbe essere credo perché ecco lì il simbolino del digestato che spruzza il biogas e questa non mi ricordo se era la quella di grano forse che avevamo fatto prima qui praticamente facciamo i fertilizzanti e i semi infatti questo qua ti serve per fare i semi facciamo il compost fertilizzante liquido no aspetta quello solido questo qui dovrebbe essere credo questo è quello liquido forse l'erbicida sai che adesso non mi ricordo vediamo un po' i simboli allora questo qui è quello liquido poi abbiamo questo non lo capisco perchè lì ha messo quelli vecchi però questo qui forse potrebbe essere quello solido credo adesso vediamo allora infatti ci vuole il grano raffinato come si vede questo qui è quello per i semi questo qui è quello per produrre i semi questo qui invece è quello per il fertilizzante praticamente fai tutti gli altri fai il fertilizzante il fertilizzante liquido e quello o è il compost dovrebbe essere credo come si vede sono separati qui ti fa vedere cosa esce qui esce uno solido dovrebbe essere uno il compost uno il fertilizzante non so se è il fertilizzante qui cos'è che c'era scritto si è il fertilizzante quindi praticamente questo qui uno è il fertilizzante e uno il compost dovrebbe essere almeno credo qui ci sono altre cose adesso intanto facciamo partire allora veniamo qui allora qui ci possiamo mettere digestato il liquido manure come avevo detto il biogas vabbè per far partire il macchinario e qui praticamente e qui praticamente facciamo fertilizzante fertilizzante liquido e l'ultimo che dovrebbe essere il compost perché essendo che il compost è una cosa aggiunta anche questa qui l'hanno scritta in rosso come si vede il biogas è compreso in tutte e due perché anche quest'altra il biogas ce l'ho già completato dovremmo aver finito i soldi ok qua in più ci vuole il fertilizzante e non li avevo messi i soldi che me l'hai finito tutti quanti con quanto cazzo costa questo fertilizzante la madonna e guarda lì quanto costa il fertilizzante la madonna cioè per riempirlo tutto ci ha svenato quello lì è un momento che mi sa che costa un casino la roba poi questa roba qui che costa molto il grano raffinato costa un casino il biogas ce l'aveva già messo quindi non c'era problema poi dovrebbe aver finito anche questa qui che questa qui è quello per il cibo come si vede cibo per vacche maiali, vacche e pesce ti dice la roba che ci vuole qua ci vuole quella per i maiali ci vuole la solita cosa che ci vuole di solito l'unica cosa è che hanno aggiunto la crusca qui e anche qui allora questa qui è quello per era quello per i pesci ci dobbiamo mettere acqua poi il brand dovrebbe essere forse quello lì ah sì dovrebbe essere la crusca e questo qui invece è quello che si faceva dall'olio quella per i cosi lì poi andiamo in questa qui qui produzione di maiali l'acqua è sempre la stessa è insieme in più ci vuole il mais poi ci vuole o patate o barbabietole e qui cozza girasole o semi di soia e poi hanno messo sempre il brand praticamente invece del frumento dell'orzo per fare quell'altro invece del frumento dell'orzo che c'era hanno messo che tu ci metti hanno sostituito con è rimasto soltanto le proteine invece quell'altro essendo che era in non mi ricordo come cavolo si chiamava quell'altro e vabbè il brand ci hanno messo invece del frumento quelle altre dovrebbero aver messo quello lì sempre la crusca vabbè potevamo rimanere anche qui allora attiva manca questa qui ci vuole l'acqua qui ci vuole vabbè per le vacche ci vuole il silato erba vabbè ci sono due tipi di erba perché potrebbe essere non so se lo intende ma ora è un periodo che costa un casino la roba mi sa con la stagione vabbè che sto mettendo della roba che forse costa però l'erba vabbè quello è stato il silato che ci ha fregato parecchi soldi poi ci vuole la paglia sì questa qui erba erba dovrebbe essere erba e fieno credo che lo intenda che se andiamo a vedere qua se riusciamo a uscire sì qui in realtà hanno messo l'erba però quest'altro cosa non mi ricordo qual'era allora qui praticamente ci va l'acqua che poi dopo viene buttata mi sa in questa vascone qua qui è dove mettiamo la paglia qui dove mettiamo l'erba credo che vada bene sia l'erba che il fieno questo invece è dove si prendono i materiali cioè la roba uno è questo uno è quest'altro anche se ci sono quattro tubi quello lì non c'entra niente vabbè qua ce ne sono due di la verità bisogna vedere un po' qual è che sono e poi più ci dovrebbe essere uno da un'altra parte forse quello dei pesci dovrebbe essere questo qui separato poi è quello dei maiali perché ci sono patate e barbabietole e questo qui non so perché ce n'è di meno vabbè poi c'era questa qui allora questa qui praticamente è quella che ti fa le pelli il cuoio e o ti fa la pelle di o ti fa la pelle e poi dopo il cuoio si andava a fare da un'altra parte vero qui praticamente come si vede ci vogliono vacche o maiali acqua e pallet facciamo un giro veloce ecco qui ci va i pallet bisogna vedere dov'è che si scaricano gli animali forse è probabile che si scaricano in questa zona qui ah forse è la freccia forse qua dietro vabbè ci sarà un trigger qua dietro che praticamente puoi scaricare gli animali l'acqua dovrebbe essere qui quindi da qualche parte in questa zona si scaricano gli animali ecco quest'altro è un'altra dove non c'è il trigger che funziona quindi bisogna per forza venire qua dentro adesso il problema è andarlo a trovare qual è questo è il separatore questo che cos'è che era? no questo non era questo qua è il cemento questo è il chipboard non dovrebbe essere che ci vanno quattro cose quindi questo adesso non so che cavolo sia forse è una che è più avanti eh aspetta andiamo a vedere se mi dice come si chiama sta cazzo ma lo dice in russo qua vabbè che basta vedere anche la foto eh allora questa non è ma devi partire per forza sempre da su questa è quella dello zucchero alcuni si capiscono eh questa è quella del separatore quello che fa la crusca queste sono le due cose forse non è anche questo qui no questa è la cava allora prima o poi la troveremo questo è il allora la cava dove cavolo era questo questo è l'olio questo è l'olio ecco qui è il petrolio questa è l'anarfineria di petrolio eh questo è l'olio vegetale questo non era questo qua mi sa che è quello che non è che è lui no ci sono due produzioni quindi no qua ci voleva il biogas quindi non c'entra niente questo questo lavander no perché c'è il biogas potevano mettere tutti quanti invece in alcuni c'è quell'errore lì questi sono i barili questo è il mulino eccolo dovrebbe essere questo qui quello della carne ok animali ah gli animali però non si possono prendere vabbè questo al massimo allora non lo vedremo ecco bisognerebbe comprare come si vede ci devi proprio portare il bovino suino ci devi proprio portare non è che puoi acquistare i litri adesso dopo vediamo quindi come si vede qua questo qui non si può portare abbiamo messo tutto sto tempo poi alla fine dei conti però più o meno abbiamo visto com'è poi qui sappiamo che c'è quello per i maiali cioè per la carne questo qui quello per le sacchette invece la resina allora biogas cartone pallet e e i polimeri allora i polimeri sono da questa parte e queste qui sono le due produzioni che si fanno allora qui mettiamo il biogas i polimeri come si vede ci vogliono tutti quanti sempre la stessa roba ok adesso parte la produzione poi qui c'era allora il cartello è qui allora questo qui praticamente è quello che si fanno tutte le schiatolati e la ci vuole un toto di roba come si vede questo è quello della carne questi sono i succhi di frutta questo è lo scatolato al pesce e queste invece sono le verdure carote come si vede cipolle e carote e poi gli altri due che adesso adesso veniamo qui qui allora questo qui è quello del vabbè acqua di sicuro ci andrà dappertutto pallet uguale questo è il cartone e qui meat questo è quello della carne poi questo qui acqua pallet di qua e di là e aspetta sembrava che c'era lo zucchero lì qual'è che ci vuole c'è su il sale ah no è lo zucchero si è praticamente assi dei succhi quindi quello lì è quello dei succhi in secondo questo qui è quello dei succhi che ci vuole lo zucchero e poi ci vogliono quelle che c'è nelle serre dovrebbe essere perché la serra si possono anche comprare quello delle serre che infatti servono per questo motivo quello dei fruttetti non si possono comprare perché quelli non servono per nessuna materia prima quest'altro invece allora ci vuole il mais ah quindi questo qui è il primo ci vuole il mais quella cosa aggiunta ah la mostarda la cipolla e la carota essendo che c'è il messaggio praticamente almeno si riesce a capire per bene qual'è questo qui dovrebbe essere l'ultimo quello che ci voleva il pesce in scatola abbiamo finito con i soldi ah le materie prime di questi qui costano un casino non so se è il periodo in cui siamo con la stagione e poi l'olio vegetale quello di scatola adesso dopo andiamo a vedere dove vanno tutti allora qui ci va la carne come si vede c'è il simbolino qui invece dove esce la carne in scatola qui abbiamo palette e cartone qui abbiamo l'acqua qui ci abbiamo lo zucchero e qua di sicuro ci abbiamo quello che forse serve con lo zucchero perché va in questo stabilimento qui come si vede questo qui è lo stabilimento per fare la carne in scatola questo qui è lo stabilimento per fare i succhi di frutta quello lì è lo stabilimento forse il primo quello dove ci vuole il frumento ah si è questo qui dove ci vuole la cipolla e tutto quanto non so se è un olio forse è l'olio vegetale potrebbe essere quello lì per fare il brodo una cosa del genere questo qui invece dovrebbe essere l'ultimo eccolo qui quello del pesce in scatola è fatto anche bene che ognuno è separato dal suo non è che sono tutti insieme infatti come si vede se noi vogliamo vedere questa qui è una produzione clicchiamo qui e ci fa vedere infatti ci segnala cioè dopo possiamo vedere anche tutti gli altri però ognuno ha la sua qui praticamente dove esce il dopo al massimo quando passa il tempo adesso facciamo partire le produzioni poi dopo vediamo facendo passare il tempo al massimo potremmo fare un'altra live per far vedere le produzioni come sono quando sono finite adesso facciamo un po' più che altro quando partono qui come si vede ce ne sono tre aspetta che non vi ho fatto vedere allora qui in pratica ci vuole allora acqua poi i mela arance credo e prugne dovrebbero essere ma beh che questi qui a dire la verità sono quelli che si fanno col frutteto mi sembra che le mele si facevano lì perché dall'altra parte si fanno le fragole quindi qui ci vuole quello del frutteto poi ci vuole il pallet questa è la farina che dopo andremo a vedere come si fa le uova che sono quelle lì che ti fanno dove hanno messo lì che ti fanno anche la carne dei polli questo è il burro e questo è lo zucchero che praticamente possiamo fare dei dolci dei pani di qua e di là dovrebbero essere forse che basta che ne facciamo una partono tutte beh forse quello dove serve allora il primo c'è scritto l'INL secondo bastone vabbè poi qui ci vuole vabbè il cartone allora qui ci vuole il mel che è la farina il burro abbiamo finito i soldi ci voleva uno che te ne aggiungeva ancora di più mazza che costano una marea 22.000 proprio se è andato via tutto qua vabbè che uno non è detto che lo deve fare sempre pieno io vabbè lo faccio pieno così dato che c'è la possibilità di metterci tutti i soldi e queste qui sono le uove che cavolo il problema è che sono un milione di litri perché ce ne sta un casino ah beh che c'è anche da dire che forse devono utilizzarle per tre produzioni perché vedi alcuni sono tutti doppi eh l'unica cosa è che ci voleva in più lo zucchero in questo in quell'altro non ci voleva lo zucchero costa un casino olè quest'altro non è partita tutta perché ci vuole ah qui ci vogliono i barili no aspetta barrier bisogna vedere ah potrebbero essere eh forse la mela una di quelle lì forse potrebbero essere quelle lì eh perché ce ne erano tre ok qui praticamente dove ci sono le tre produzioni e in giro qui praticamente allora qui ci vogliono i pallet qua la farina qua il cartone, burro basta guardare sempre la cosa buona di questa mappa che mettono tutti i simbolini pratica qui ci sono tutti quelle lì questi due dovrebbero essere forse alcune quelle che ci sono per tutti poi dopo ci dovrebbero essere anche altre zone allora qui si scarica l'acqua perché c'è scritto boa poi ci sono anche sì qui adesso stavolta il simbolo qua se ne sono scordati eh è probabile che dovremmo aver visto tutto no qua ah qui c'è da scaricare qualche cos'altro fa l'assegno della freccia mi sembrava che mancavano quelle delle serre forse è probabile che andavano messi lì cioè quelle delle serre, quelle del frutteto allora ora qui praticamente questa l'hanno modificato perché all'inizio inizio le prime volte che in pratica questa produzione ancora non c'era avevano messo qui il punto vendita invece adesso hanno cambiato che hanno messo qui il punto vendita e fuori e qui in pratica dove possiamo portare le nostre pelle ci prendiamo questo qui praticamente dove fare le pelli ecco qui sì adesso l'hanno cambiato ma quello lì è il simbolino della pelle che abbiamo preso prima con gli animali dalle vacche perché qui hanno utilizzato quello vecchio ah praticamente col passare del tempo mi arrivano delle spese ah no quelli lì sono gli aggiornamenti che sta facendo allora con acqua pallet le pelli che abbiamo che il simbolo è diverso adesso la lana e le palle di lino praticamente facciamo il cuoio adesso non mi ricordo qui con la lana che cazzo si fa questo è quello di lino queste qui dovrebbero essere lo scarico credo il carico sono qui qui ci mettiamo la lana qui ci mettiamo il cuoio c'è il cuoio ci facciamo il cuoio ci mettiamo la pelle gli animali qui il pallet qui ci mettiamo l'acqua e che cos'è che c'era in più ah manca la paglia perché qui possiamo scaricarla anche senza balle perché se non abbiamo fatto la balla possiamo scaricarla lo stesso ok questo è il primo che ci vuole la skin quindi ci vuole la pelle skin e pelle questo è il pallet e questa è quella per fare il cuoio questa qui invece è questa per fare il lino cioè ci vuole la paglia di lino e questa ci vuole la wool la lana ok e anche questa è fatta poi questa qui è quella per fare lo zucchero e la melassa e in più fa anche quest'altro coso qui che non lo so se si può utilizzare se è la biomassa potrebbe essere che è probabile che si possa utilizzare anche in questa zona qui ok andiamo qui qui ci vanno le barbabietole come si vede ce n'è solo una ci vanno i sugarbi le barbabietole poi il biogas come al solito per far partire il macchinario l'acqua i pallet perché alcune cose si possono mettere nel pallet e questi qui dovrebbero essere le borse credo aspetta andiamo a vedere cosa ci voleva anche si esatto le borse è probabile che lo zucchero lo verrà messo in questi qua allora qui ci va il biogas poi in questa zona ci vanno come al solito cartone e qui ci va il pallet qui ci vanno come si vede queste sono le sacchette di plastica queste dovrebbero essere i due posti anzi che ce ne sono tre perché uno uno è probabile che si scarica da un'altra parte adesso dopo andiamo a vedere qui ci va l'acqua che è probabile che qualcuno si scarica anche passando sopra il rimorchio allora vediamo se c'era ecco qua c'è qualcosa credo ecco si l'unica cosa che non hanno messo il simbolino però è quello da 13 quello che ce n'abbiamo 13 adesso bisogna vedere il nome com'è che si chiama qualcosa lì era passato a mobili qua se dopo devo andare a controllare una cosa eh benvenuto di nuovo in chat mi hai detto quindi allora questo è tutto adesso sono rimaste questa che qui è dove si fa la farina e si può fare anche la crusca anche qui la crusca la possiamo fare in due posti la possiamo fare anche in questa zona qui qua ci mettiamo ah no aspetta che palle allora si ci vuole il grano raffinato eh però le bustine grano raffinato abbiamo finito come al solito i soldi ok poi ci vogliono i pallet poi ci vogliono le borse le sacchette qui praticamente buttiamo quell'altro qui qui è dove mettiamo la farina no non ho capito perché c'è la farina ah sì perché si fanno due cose vero qui si fa la farina e quell'altra vero sì quindi qua praticamente pare la farina queste ci vanno i pallet ed è probabile che la crusca sia qua sotto poi abbiamo questo qui e in pratica è quello dove possiamo fare yogurt burro e quell'altro ah la fragola serve qui come vediamo qui ci va la fragola qui ci va quest'altro cos'è quest'altro è un altro che non funziona ma che palle queste qui che non deve funzionare il il pulsante scritto dovrebbe essere ah forse ti fai il latte in scatola ah eccolo qua funziona qui perfetto allora qui ci dobbiamo mettere il latte qui poi i pallet i cartoni e facciamo il latte vabbè il latte ci vuole anche qui ci vuole lo zucchero pallet vabbè ce l'ha già messo è vero vabbè qui ci voleva praticamente solo lo zucchero qui non ci vuole nient'altro è già attivata questa altra è quella dove ci vuole la fragola di sicuro ah ci hanno messo la fragola ma mi sa che ci possiamo mettere tutti quanti eh ancora questo cazzo di cosa ma che problemi c'ha questo cazzo di wifi di merda che se ne deve sempre andare oh lei questa qui è una che avevamo no non avevamo fatto partire però era una che mi sembra che la produzione già c'era questa è quella per fare i quelle per fare i mobili come vediamo oh lei questa qui non l'abbiamo visto è vero questa qua no questa è la lavanda mi sembra che l'avevamo vista sì esatto poi questa qui dovremmo averla vista che c'è già la roba questa pure è probabile che abbiamo questa qui forse esatto questa qui quella che fa l'olio e poi quella cosa i barili allora qui ci vuole e l'upolo i barili il biogas e abbiamo finito tutti quanti i soldi poi i pallet l'acqua e questa è la prima e poi c'è quell'altro il forse dovrebbe essere la birra nera credo ci vuole il rie forse avevamo già messo ci vuole l'orzo i barili no non hanno già messo i barili forse è un'altra cosa questo è già posto questo è già posto ok e sono partite eh madonna che palle questo wifi vabbè facciamo che la live sul telefono non la vedo più così siamo a posto tanto mi deve sempre rompere scatole olè questa che cavo questa che è quella della crusca che avevamo già visto e dovremmo aver visto più o meno tutte le produzioni quello dell'olio ah no questa qui manca ah no l'avevamo già vista prima quindi ok quelle erano quelle già fatte ah si non vi ho fatto vedere queste qui questa qui per le uova però vabbè questa qui ci mettiamo l'acqua qua ci mettiamo i pallet qui scarichiamo ti fa vedere qui i simboli non la faccio partire perché non mi fa vedere quell'altro cosa questa qui è quella del cartone qui arriva il cartone qui ci mettiamo i pallet qua ci scarichiamo il cipato per far partire e l'acqua la mettiamo qui poi le serre no aspetta questo qui è quello del compost che avevamo visto all'inizio inizio qua si può scaricare della roba e in pratica qui poi ci mettiamo il biogas quello che si scarica adesso non so se si vede ancora qui una volta avevano messo il coso che ti faceva vedere questo qui è un deposito questo è il deposito di letame qui deposito di fertilizzante liquido deposito di fertilizzante solido dovrebbe essere sì che c'è il simbolino qua questo invece è quello dei semi qui possiamo invece il non ricordo se sì dovrebbe essere il liquame non il digestato qui possiamo invece caricarlo qui possiamo la calce che la andiamo a immagazzinare qui qui si aprono tutti qui dove carichiamo il biogas come si vede lo possiamo caricare solo da alcuni rimorchi ora aspetta dove era? ah qua ecco le serre erano qui come si vede facciamo queste tre cose qui che è probabile che servano in quelli lì dove li avevano messo solo il singolo della fragola però forse è probabile che ci andavano tutti pallet, cartone manure o compost mi sembra che c'è tutte e due infatti come si vede ci sono due t c'è manure e poi sopra dovrebbe essere forse il compost si vede e basta dopo bisogna vedere allora qui appaiono le cose adesso non ho capito qui perché me ne ha messo solo uno perché essendo che devo ah non è che forse è probabile che aspetta proviamo ad andare a vedere un attimo con questo qui per vedere qual è perché non è che forse te li metto tutti quanti insieme ma è strano perché per comprare si possono comprare tutte e tre separate quindi non credo che si possano mettere che bisogna vedere forse tu quelle che ti fai scaricare ti metti lì è strano che non hanno fatto uno separato dall'altro come hanno fatto tutti gli altri il problema è che qua adesso andrò a trovare quale cavolo sia ok io direi che per questo lag qui è tutto ci rivediamo la prossima volta così vediamo tutte le produzioni più o meno quando si vanno a scaricare un saluto da Greg79 ciao ciao a tutti